Salve a tutte e tutti, oggi andremo a parlare delle crociate e in particolar modo ne racconteremo le cause di natura religiosa ma anche di natura sociale e politica. Poi ci dedicheremo in modo più analitico alla prima e alla seconda crociata mentre delle crociate successive parleremo in altri video quando andremo ad affrontare le vicende di Federico il Barbarossa, di Federico II e di San Francesco. Bene, intanto cerchiamo di definire che cosa sono state le crociate. Dobbiamo dire che nel corso del Medioevo i cristiani erano portati ad operare una serie di pellegrinaggi, almeno un pellegrinaggio nella vita nei luoghi della cristianità. Per i cristiani medievali questo pellegrinaggio rappresentava un percorso di medesimazione nella passione di Gesù. Diciamo che da quando gli arabi avevano occupato il territorio della Palestina, quindi i luoghi in cui Gesù era vissuto, il pellegrinaggio si compiva in maniera pacifica però era comunque un pellegrinaggio armato. Tra l'altro diversi imperatori e re dell'Europa occidentale avevano anche stipulato degli accordi diplomatici diciamo così con gli arabi per prevedere dei pedaggi anche non troppo onerosi affinché i cristiani potessero affrontare questo viaggio. Abbiamo notizia appunto di un contratto in questo senso stipulato addirittura da Carlo Magno. C'è da dire che la situazione però nel territorio della Palestina muta considerevolmente a partire dall'undicesimo secolo ed è proprio alla fine dell'undicesimo secolo che questi pellegrinaggi armati diventano le crociate di cui noi oggi parliamo. Cioè questi pellegrinaggi divennero vere e proprie spedizioni militari che erano indette dalla chiesa di Roma contro i turchi musulmani e lo scopo dichiarato era la riconquista della terra santa in nome della croce di Gesù. Ecco perché si chiamano crociate. Ora tra gli storici non c'è accordo sul numero effettivo delle crociate perché ne abbiamo otto convocate ufficialmente a capo delle quali ci furono dei nobili e talvolta anche dei re e degli imperatori. Ma ci furono anche crociate organizzate in maniera più spontanea tipo la crociata degli estraccioni o la crociata dei fanciulli. Diciamo che otto è il numero delle crociate ufficiali. La prima delle quali è del 1095 e l'ultima, l'ottava, sarà del 1270. Dunque ci rendiamo conto che parliamo di un torno piuttosto ampio di anni quindi è una storia lunga e la storia delle crociate si interrela con la storia dell'Europa medievale in vari modi ed è per questo che noi oggi ne raccontiamo soltanto la prima parte e poi le altre crociate saranno affrontate in lezioni successive. La prima crociata fu quella che condusse alla conquista di Antiochia e di Gerusalemme, una crociata durata dal 1095 al 1099. Abbiamo poi la seconda crociata che fu la risposta cristiana europea alla caduta di Edessa, quindi una crociata combattuta dal 1147 al 1149. La terza fu quella guidata da Federico il Barbarossa a cui parteciparono anche Riccardo Cuor di Leone che fra i personaggi medievali è uno dei più famosi se vogliamo, reso famoso anche dalla letteratura ma come dire anche dai cartoni animati. E' il protagonista diciamo così della vicenda di Robin Hood e Filippo Augusto dopo la notizia della caduta di Gerusalemme quindi siamo dal 1189 al 1192. La quarta è assai interessante, ne parleremo profusamente, portò alla conquista di Costantinopoli. Anche la quinta è interessante, la quinta venne svolta sul delta egiziano e siamo dal 1217 al 1221. Questa è interessante perché fu la crociata a cui prese parte anche San Francesco che andò a portare il proprio messaggio di pace. Poi c'è la sesta che a mio modo di vedere è la più interessante perché fu quella, diciamo così, portata avanti, non si può dire combattuta, dall'imperatore Federico II di Svevia. Bella perché fu praticamente una crociata in cui però Federico trattò soltanto da un punto di vista diplomatico e non impiegò le armi per combattere. Però il riconoscimento, il risultato che ne guadagnò fu anziché un encomio per aver trattato in maniera diplomatica e senza sacrificare nessuna vita, cosa che noi nella nostra contemporaneità ci aspetteremmo, ecco quello che ottenne in cambio fu una scomunica. Però dobbiamo ovviamente circostanziare i fatti e capire come mai nel Medioevo un comportamento del genere di Federico II venne stigmatizzato anziché essere incomiato come noi moderni e contemporanei ci aspetteremmo. C'è poi una settima crociata che va dal 1248 al 54 e l'ultima che venne combattuta nel 1270 che segna poi la fine di questa esperienza perché poi come sappiamo a partire dal 1300 questo bisogno di pellegrinaggio nei luoghi della cristianità viene avvocato a Roma e dunque Bonifacio VIII riterrà più utile favorire l'arrivo dei pellegrini a Roma e quindi lanciare l'idea del giubileo che ancora oggi esiste. Allora, pensiamo che la crociata possa essere stata pensata per motivi fondamentalmente religiosi. Cioè l'idea ci può sembrare che fosse quella di andare a riconquistare i territori presso i quali Gesù era nato, era cresciuto, aveva vissuto gli ultimi giorni quelli della passione, della morte, della ressurrezione, quindi i luoghi sacri del cristianesimo. In realtà accanto a questo bisogno di fede di alcuni crociati dobbiamo ovviamente dire che molte furono le motivazioni di carattere sociale e politico perché originariamente, questo è innegabile, le crociate erano pellegrinaggi in terra santa e nel corso dei secoli molte più persone avevano iniziato a partecipare a questi pellegrinaggi, anche persone povere. Cioè c'era l'esigenza almeno una volta nella vita di intraprendere questo viaggio. Però dobbiamo anche dire che soprattutto in concomitanza con la svolta dell'anno 1000, come sappiamo, c'era stata una rinascita dei commerci, la nascita delle città marinare, la sconfitta della pirateria nel Mediterraneo e questo aveva fatto sì che l'Europa avesse sviluppato di nuovo degli interessi commerciali verso l'Oriente e dunque questi interessi commerciali richiedevano, come dire, un'espansione territoriale verso l'Oriente e in questo le crociate furono, come dire, una valida giustificazione di carattere religioso e ideologico quando in realtà gli obiettivi che si perseguivano erano fondamentalmente di carattere economico e commerciale. Dobbiamo dire, tra l'altro, che la società sia dell'alto sia del basso medioevo, ma qui ormai siamo nel basso medioevo, era, come dire, animata da forti sentimenti di frustrazione, cioè diversi strati della popolazione erano particolarmente insoddisfatti. Diciamo che la categoria maggiormente insoddisfatta era quella dei cavalieri, cioè i figli cadetti, coloro che, pur appartenendo a famiglie nobiliari, a famiglie ricche, non essendo primogeniti, si ritrovavano nella condizione di doversi fare cavalieri e in questo senso, dunque, avevano il bisogno di prendere parte delle guerre per avere sia un loro riscatto e per compiere gesta eroiche, ma anche per una motivazione più prosaica, quale quella di fare bottino. Diciamo poi che nel corso dei secoli si stava facendo sempre più forte un sentimento di intolleranza religiosa e questo atteggiamento intollerante verso gli arabi era particolarmente peggiorato nel corso dell'undicesimo secolo, soprattutto a seguito di un evento che succede, diciamo, nell'Europa orientale e in quello che era, diciamo così, nel mondo bizantino nel 1076, perché è proprio allora che i turchi selgiuchidi, che erano appunto di religione musulmana, conquistarono Gerusalemme e giunse in Europa una notizia mendace che però raccontava che questi turchi erano particolarmente molesti e cattivi nei confronti dei cristiani, nei confronti dei pellegrini, facevano contro di loro delle angherie, li perseguitavano e questo a cui, come dire, un sentimento di intolleranza. Dobbiamo ricordare, tra l'altro, che nel 1054 si era consumato lo scisma d'Oriente, cioè le due chiese, quella di Roma e quella di Costantinopoli, si erano divise. Questo aveva creato due gerarchie ecclesiastiche diverse, e però ciascuna delle due gerarchie aveva l'esigenza di dimostrare di essere la referente della cristianità nel suo complesso. Quindi, come dire, Roma non si rassegnava al fatto di aver perso l'influenza su una parte cospicua di quello che era stato l'impero romano. Diciamo poi che l'impero bizantino, in questa fase, nell'undicesimo secolo, era ancora abbastanza florido, però dobbiamo capire che in realtà i turchi si stavano ben strutturando e noi sappiamo benissimo che nell'arco di quattro secoli avranno la forza e la capacità di spazzare via completamente l'impero bizantino. Devo dire che in questa fase, no, manca una motivazione che non ho scritto, la diciamo a voce, ricordiamo inoltre che l'Europa, alla fine dell'undicesimo secolo, era stata interessata, e ancora non si era giunti alla fine di questo contrasto, da un profondo contrasto tra papato e impero, quella che abbiamo già definito come lotta per le investiture, quindi fra il papa e l'imperatore c'era un rapporto particolarmente farraginoso perché ognuno dei due riteneva di dover essere la guida dei territori europei, o detto meglio, ognuno dei due riteneva che il proprio potere fosse superiore al potere dell'altro, il papa che il potere spirituale fosse superiore a quello temporale, l'imperatore che il potere temporale fosse superiore a quello spirituale. La lotta per le investiture non era ancora conclusa quando, diciamo, si presentò l'occasione per un papa, in particolare che è Urbano II, di lanciare il messaggio delle crociate. Devo dire che le crociate però ebbero anche una fortissima giustificazione di carattere, possiamo definire, ideologico-religioso. Cioè accanto a queste motivazioni che ha cercato di dare di carattere soprattutto geopolitico e sociale, quindi il bisogno di spazi commerciali fondamentalmente, il bisogno di nuove terre da conquistare, il bisogno di ridefinire il potere del papa, il potere dell'imperatore, ecco, diciamo, accanto a queste motivazioni politiche e geopolitiche, la Chiesa si dotò anche di argomenti a cui fare ricorso per motivare i combattenti, per motivare i crociati. Potremmo citare tanti esempi, ma è parso bene citare quello più eclatante, che è quello di Bernardo di Clervo, Bernardo di Chiaravalle, che oggi è un santo nella Chiesa Cattolica. Bernardo fu protagonista della seconda crociata, quindi ne parleremo anche in maniera più approfondita alla fine di questo video. Mi è parso bene però ricordare subito qual è sinteticamente l'impostazione di fondo. Siamo in una fase in cui la Chiesa vuole combattere fondamentalmente due mali, le eresie al proprio interno e l'infedeltà a Gesù al proprio esterno. E in questo contesto si innestano le crociate. Dobbiamo capire che però per la Chiesa questa lotta all'infedeltà nei confronti di Gesù era una lotta unica che aveva due grandi nemici, gli eretici all'interno e i non credenti, soprattutto i musulmani, all'esterno. La Chiesa però si dota di un concetto nuovo che in realtà era stato posto già da Agostino di Ippona, in realtà già leggibile nelle lettere di San Paolo. Ecco, Bernardo di Chiaravalle porta alle estreme conseguenze la riflessione di San Paolo e anche alcune riflessioni di Agostino di Ippona. L'idea è appunto che la guerra contro gli infedeli è una guerra santa. È santa perché il fine della lotta all'infedele è superiore all'azione criminale di uccidere qualcuno. Quindi il credente, il cristiano, è giustificato nel proprio atto di uccidere un altro essere umano perché, dirà Bernardo di Chiaravalle, l'uccisione di un infedele in realtà non è un omicidio ma è l'uccisione di un uomo malvagio. Quindi può essere addirittura definito un malicidio del quale il cristiano deve essere orgoglioso e se ne potrà far vanto davanti a Gesù. Quindi la guerra santa è quella guerra che il fedele combatte anche contro l'infedele, ha il diritto di uccidere l'infedele perché tanto l'infedele è l'incarnazione del male, è l'incarnazione della sudditanza al peccato e quindi non c'è nessuna conseguenza negativa per questo tipo di omicidio, anzi ci sarà la riconoscenza da parte di Gesù. E questa, voi capite, è una giustificazione ideologica che vedremo alla fine di questo video, porterà per le crociate ad un bilancio di morti incredibile per i tempi. Siamo di fronte ad un bilancio di 2 milioni di morti. Come iniziano le crociate? In realtà iniziano perché la situazione, come ho cercato già di esprimere in modo sintetico, nel territorio dell'impero bizantino era particolarmente delicata. Abbiamo detto che nel territorio persiano si erano stanziati i turchi selgiuchidi e costoro, a partire dall'undicesimo secolo, iniziarono ad avanzare verso l'Iraq. Nel 1071 avvenne una battaglia particolarmente importante sotto questo profilo, che è la battaglia di Manzinkert, che viene pure italianizzato in Manzincerta, però insomma è la battaglia di Manzinkert in Anatolia. Questa è una battaglia che venne vinta dai turchi. I bizantini, subita questa sconfitta, ebbero anche un rivolgimento politico interno, cioè il popolo bizantino perse fiducia nella casata imperiale. Quindi ci fu un decennio di laceranti conflitti interni per capire chi dovesse salire al trono e alla fine prevalse l'imperatore Alessio Comneno. L'obiettivo di questo imperatore bizantino era, come possiamo facilmente immaginare, quello di favorire una ripresa dell'impero. Il suo impero si era ridotto territorialmente, si era impoverito economicamente e ovviamente Alessio Comneno, come qualsiasi altro imperatore, desiderava rafforzare il proprio impero, assistere ad essere protagonista di una ripresa. E allora, nonostante fosse avvenuto da pochi decenni lo scisma d'Oriente, chiese un piccolo aiuto al Papa. Nelle intenzioni di Alessio Comneno l'aiuto che il Papa doveva dare doveva essere piccolino, cioè doveva semplicemente contattare e intercettare quei cavalieri diciamo dell'Europa occidentale, quei cavalieri romani, che già erano presenti nel territorio bizantino, ecco, doveva intercettarli ed intercedere presso costoro perché andassero a portare una mano d'aiuto all'impero bizantino e all'esercito bizantino. Cioè Alessio non chiese al Papa di creare un proprio esercito, quindi un esercito europeo che andasse a combattere contro i turchi. Alessio chiese al Papa se avesse notizia di qualche cavaliere che magari si trovava già nei territori dell'impero bizantino perché era venuto a cercare fortuna, perché era in pellegrinaggio. Ecco, se poteva fargli i nomi di questi cavalieri così che lui li avrebbe contattati e li avrebbe messi all'interno del proprio esercito. Questo era quello che era stato chiesto. Urbano II, che era il Papa di allora, che si trovava in una condizione delicata perché appunto il predecessore, diciamo, non proprio il predecessore diretto, l'ultimo grande Papa prima di lui, Gregorio VII, aveva iniziato questa lotta per le investiture contro l'imperatore. Quindi Urbano II che si trovava in una fase delicata della storia della Chiesa in cui questa frattura con l'imperatore non era stata ancora ricomposta ma che comunque non voleva riprendere la politica di Gregorio VII troppo aggressiva e diretta contro l'imperatore perché non voleva fare come è anche comprensibile a stessa fine di Gregorio VII pensò bene di approfittare della situazione e quindi in risposta a questa richiesta di Alessio Comneno predicò per la prima volta l'importanza della crociata quindi cercò di trovare un utile in questa richiesta fatta da Alessio Comneno e dunque c'era era in corso un concilio a Clermont quindi in Francia c'erano 300 ecclesiastici e lì Urbano II diciamo tenne questo importante discorso quindi Urbano ripetiamolo voleva evitare in ogni modo lo scontro frontale con l'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico e quindi cercava come dire un'occasione per portare avanti come dire il contrasto con l'imperatore ma in una maniera più diplomatica in una maniera laterale e così escogita la crociata ricordiamo che in Europa c'era una serie di cavalieri che compiva una serie di razzie diversi papi si erano trovati costretti addirittura ad indire delle paci di Dio perché questi cavalieri scorazzavano per i territori europei violentavano le donne rubavano facevano di tutto perché appunto quando questi cavalieri non andavano in guerra avevano bisogno di fare bottino in un modo o nell'altro e quindi Urbano come anche altri papi prima di lui aveva questo problema ricordiamo nella lotta per le investiture che era stata ingaggiata da Gregorio VII il papa aveva sostenuto che il potere spirituale fosse superiore a quello dell'imperatore il vero problema è questo però come sappiamo già dai tempi di Carlo Magno e dai tempi di Ottorni I il papa poteva pur detenere un potere spirituale superiore rispetto a quello di qualsiasi altra persona e tra l'altro Gregorio VII l'aveva ribadito con il dittatus pape però il papa non aveva un esercito l'imperatore e allora la crociata diede ad Urbano II un'occasione meravigliosa cioè quella per cui poteva essere il papa a convocare i fedeli in armi quindi a organizzare l'esercito dell'imperatore o dei re quindi fu in questo senso un atto veramente innovativo e intelligente cioè portare il piano dello scontro con l'imperatore dal piano militare quindi diciamo dal livello militare al piano della teoria politica e di gestione materiale del potere poi ripetiamolo c'era stato lo scisma d'oriente quindi il papa voleva comunque dimostrare che era Roma la vera sede della cristianità che aveva a cuore tutti tutti i fedeli doveva essere il centro assoluto della cristianità non c'era nessun'altra Costantinopoli che potesse togliere a Roma questo primario ricordiamo tra l'altro che comunque nel medioevo era anche fortissimo un fermento religioso che aveva fatto nascere nuovi ordini monastici movimenti eretici cioè le persone aspettavano con molta più ansia di quanto non succeda oggi il giudizio universale avevano paura di peccare avevano un bisogno incredibile di redenzione cioè sapevano di essere comunque peccatrici sapevano che da sole non potevano salvarsi temevano che a breve sarebbe giunto il giudizio universale quindi avevano proprio bisogno di momenti di occasioni grazie alle quali ottenere l'indulgenza e Urbano lavorò anche su questo bisogno tutto umano di salvezza che nel medioevo era molto più forte di quanto non lo sia oggi e alcuni cavalieri tra l'altro conquistandosi nuove terre potevano finalmente ottenere dei territori sui quali governare quindi dopo che avevano subito come dire il dispiacere che i loro fratelli maggiori avevano ereditato tutti i territori e loro erano rimasti senza nulla magari compiendo queste campagne potevano impossessarsi di nuovi territori ancorché lontani però finalmente anche loro avrebbero potuto governare quindi per i cavalieri c'era anche quest'altra possibilità ora durante questo concilio a Clermont Urbano II tenne questo discorso che è il discorso di Clermont che lancia appunto le crociate che indice la prima crociata ora noi abbiamo diverse versioni della crociata però fra le diverse versioni che sono circolate la più attendibile o quella comunque a cui ci rifacciamo è quella di Fulcherio o Fulchero di Chartres qua ho messo un piccolo estratto proprio per far capire quale era l'intento diciamo la coloritura ideologica data da Urbano II a questa campagna della quale finora ho parlato anche delle motivazioni più recondite e indicibili e infatti in questo discorso Urbano II sostenne poiché o figli di Dio gli avete promesso di osservare tra voi la pace e di custodire fedelmente le leggi con maggior decisione di quanto siete soliti è il caso di impegnare la forza della vostra onestà ora che la correzione divina vi ha rinvigoriti in qualche altro servizio a vantaggio di Dio e vostro è necessario che vi affrettiate a soccorrere i vostri fratelli orientali che hanno bisogno del vostro aiuto e lo hanno spesso richiesto in realtà la richiesta era stata una sola quella di Alessio Comneno come sappiamo infatti come a molti di voi è già stato detto i turchi gente che viene dalla Persia e che ormai ha moltiplicato le guerre occupando le terre cristiane sino ai confini della Romagna uccidendo molti e rendendoli schiavi rovinando chiese devastando il regno di Dio sono giunti fino al Mediterraneo cioè al braccio di San Giorgio se li lasciate agire ancora per un poco continueranno ad avanzare opprimendo il popolo di Dio per la qualcosa vi esorto insistentemente anzi non sono io a farlo ma il Signore affinché voi persuadiate con continui incitamenti come araldi di Cristo tutti di qualunque ordine cavalieri e fanti ricchi e poveri affinché accorrano subito in aiuto ai cristiani per spazzare dalle nostre terre quella stirpe malvagia lo dico ai presenti e lo comando agli assenti ma è Cristo che lo vuole quindi come vedete fa questo discorso in cui parla della cattiveria la malvagità dei turchi che maltrattano le persone devastano le chiese e quindi esorta questi cavalieri a prendere tutte le loro energie tutte le loro forze e a stornarle verso oriente anziché perderle in occidente come vi dicevo non c'è un numero ufficiale di cruciate proprio perché accanto alle otto cruciate ufficiali ne abbiamo alcune organizzate da gruppi di persone non rispondenti né a nobili né ad imperatori e quindi il primo pellegrinaggio di riconquista della terra santa è la cosiddetta crociata degli straccioni perché appunto appena si diffuse in tutta Europa grazie soprattutto all'intervento di predicatori il più famoso dei quali fu Pietro l'eremita qui l'ho messo in un'immagine per ricordarlo i primi che si lasciarono persuadere da quest'appello furono i più poveri e diciamo il popolo più più ingenuo e costoro proprio sotto la guida di Pietro l'eremita e anche qualche altro cavaliere come Gualtieri senza veri si misero in cammino però nell'andare in marcia fecero delle tremende brutte soste la più famosa delle quali fu in Europa dell'Est in cui si fermarono e massacrarono degli ebrei quindi avevano recepito come dire soltanto la parte iniziale del messaggio che era quella di mettersi in marcia verso oriente alla ricerca della salvezza ma poi in realtà davano soltanto sfogo alla loro rabbia e al loro bisogno tutto umano di salvezza che però non sapevano interpretare non sapevano risolvere andiamo a vedere invece la prima crociata ufficiale diciamo che questa prima crociata vede la luce quando ancora non è ricomposto lo scontro con l'imperatore e quindi è una crociata alla quale non prese parte nessun re né tantomeno l'imperatore soprattutto i sovrani tutti erano rimasti molto infastiditi del fatto che a convocare l'esercito fosse stato il papa cioè avevano ritenuto quella di Urbano secondo una invasione intollerabile di campo cioè poteva anche accettarsi la superiorità spirituale del papa ma erano i detentori del potere politico coloro che avevano il diritto e il dovere di convocare e guidare gli eserciti mai si poteva ammettere che fosse un papa a convocare gli eserciti di questo aveva dato molto fastidio e quindi si misero a capo della prima crociata nobili di secondo rango coloro che appunto speravano che grazie a questa campagna militare potessero guadagnarsi ancorché fuori dai territori dell'Europa occidentale nuove terre da conquistare e poi da governare fra questi crociati va ricordato Goffredo di Buglione che era un duca dell'alta Lorena Raimondo di Saint-Gilles che era il conte di Tolosa e poi due normanni che erano Boemondo e Tancredi di Taranto e poi Roberto di Normandia questa spedizione giunse a Costantinopoli e lì appunto incontrò l'imperatore Alessio Comneno che rimase colpito in modo negativo da un'armata così numerosa proprio perché Alessio aveva chiesto l'imperatore aveva chiesto aveva chiesto appunto una manciata di cavalieri non si aspettava un esercito però visto che aveva questo esercito tutti questi uomini chiese loro un giuramento di fedeltà e questi accettarono all'inizio la campagna andò bene tant'è che nella primavera del 1097 i crociati riuscirono a sconfiggere il sultano turco Arslan I e conquistarono Nicea poi andarono verso la Siria e di nuovo vinsero contro i turchi a Dorileo e conquistarono nel 1098 Antiochia nel 1099 erano intervenuti nella guerra anche i genovesi i crociati con l'appoggio appunto della città marinara di Genova conquistarono e saccheggiarono Gelusalemme e così costruirono dei regni cristiani d'Oriente in particolar modo ecco Buemundo di Taranto creò il principato di Antiochia mentre Raimondo di Tolosa la contea di Tripoli e Goffredo di Buglione il regno di Gelusalemme quindi la prima crociata diciamo da un punto di vista militare vide un successo perché comunque appunto Gerusalemme era stata conquistata e quindi il luogo santo della cristianità era sotto il controllo occidentale qui ho riportato una carta geografica appunto delle direzioni delle prime crociate europee in verso Oriente andiamo a parlare velocemente della seconda crociata siamo una cinquantina di anni dopo nel 1145 arrivò in Europa la notizia della caduta di Edessa e allora era Papa Eugenio III e Eugenio III come già aveva compreso bene Urbano II si affrettò ad emanare la bolla quantum predecessores e quindi come già aveva fatto Urbano II garantì a tutti coloro che avessero preso parte alla crociata un'indulgenza prenarea quindi la remissione di tutti i peccati e anche la protezione per la famiglia se fossero morti in battaglia in realtà all'epoca era re di Francia Luigi VII che già stava pensando in cuor proprio di andare in pellegrinaggio nei territori nei luoghi santi e tra l'altro questo desiderio di Luigi VII devo dire era anche incoraggiato dagli altri nobili francesi che speravano che se Luigi fosse stato impegnato fosse stato occupato fuori dai territori francesi e con loro avrebbero avuto un po' più di autonomia un po' più di potere decisionale e quindi con l'appoggio di San Bernardo di Bernardo di Chiaravalle Luigi VII andò da Eugenio III che era il Papa e si fece assegnare l'incarico diciamo così Bernardo di predicare la crociata sia in Francia sia nel resto di Europa e Luigi di lavorare alla costruzione di questa spedizione militare è qua che San Bernardo si ritagliò questo ruolo al quale ho fatto cenno prima cioè giustificò la gran mole di omicidi e di stragi che i crociati si accingevano a compiere nelle loro spedizioni avevano compiuto nella prima crociata diciamo che i cristiani delle origini che erano ancora fedeli al comandamento che come sappiamo impone di non uccidere facevano fatica a comprendere come mai la chiesa chiedesse loro di impugnare le armi e di andare ad uccidere altre persone e come ho già detto fu Bernardo a sostenere con questi sermoni con queste prediche molto forti molto coinvolgenti che chi avesse ucciso un peccatore o un infedele non stava uccidendo in realtà un uomo ma il male dentro quella persona quindi paradossalmente gli stava facendo del bene Bernardo quindi si portò dietro molti fedeli francesi ma anche in alcuni territori tedeschi e nell'impero oltretutto riuscì a convincere anche Riccardo III di Svevia questo è importante perché poi la casata di Svevia avrà un ruolo importantissimo nel proseguio della storia europea Corrado III è il nonno di Federico il Barbarossa partì dunque una spedizione particolarmente corposa però con diversi nobili di primo piano quindi Luigi VII Corrado III poi era presente anche Bernardo di Chiaravalle che comunque ovviamente non pretendeva di essere una guida militare di fatto non lo era però pretendeva invece di essere una guida spirituale di questa spedizione anche perché sentiva di essere stato lui a portarsi dietro questa gran massa di fedeli e quindi fin da subito ci furono profonde divergenze fra i capi della crociata su come portare avanti la campagna insomma non erano d'accordo praticamente su nulla queste esitazioni iniziali compromisero l'esito della spedizione perché i turchi ebbero subito l'occasione di riorganizzarsi e quindi intanto impedirono l'assedio di Damasco e tra l'altro è proprio in questa circostanza che emerge un generale turco particolarmente importante che è Nur ad-Din diciamo Nur ad-Din da un punto di vista militare merita di essere ricordato perché fu colui che riuscì a far arrendere Corrado Terzo di Svevia ma soprattutto Nur ad-Din è importante perché è un antenato di Salah ad-Din cioè quello che poi è traslitterato in italiano come il Saladino però ecco in arabo sarebbe Salah ad-Din e colui che riuscirà poi a riunificare sotto il proprio comando la Siria e l'Egitto e quindi riuscirà ad accerchiare Gerusalemme e è colui che poi sarà protagonista per conto degli arabi della terza crociata di cui parleremo più profusamente in un altro video a questo punto benché noi ci fermiamo a queste prime due crociate dicendo che poi ne riparleremo quando andremo a parlare di Federico il Barbarossa di Federico II quindi poi delle altre campagne parleremo cammin facendo nel corso dell'evoluzione della storia dell'Europa però intanto facciamo primo bilancio questa guerra che venne giustificata come una guerra santa contro gli infedeli anche se come ho più volte detto era una guerra che veniva mossa anche e soprattutto per ragioni politiche e religiose comunque ebbe un bilancio incredibilmente sanguinario perché ci furono appunto due milioni di morti c'è da dire che oltretutto queste campagne continue per raccogliere i fedeli da mandare in terra santa acuirono considerevolmente gli atteggiamenti intolleranti degli europei quindi favorirono la diffusione di un fanatismo religioso e tra l'altro non solo non risolsero lo scisma d'oriente che è ancora oggi operante ma segnarono ormai un punto di non ritorno in questo scisma cioè ormai diciamo questa invasione di campo della chiesa di Roma nei territori bizantini comportò la definitiva possibilità di una ricomposizione dello scisma d'oriente ovviamente chi di fatto veramente trasse dei vantaggi dalle crociate furono fondamentalmente i mercanti in particolar modo i mercanti delle città marinare in questo contesto voglio citare Venezia che fra le città marinare fu quella che ebbe i maggiori vantaggi dalle crociate anche perché i veneziani furono particolarmente abili magari sì a permettere all'interno del proprio territorio la predicazione dei cristiani ma poi vendevano anche agli infedeli così come ai cristiani le armi con le quali facevano la guerra e soprattutto poi con loro con la loro flotta organizzavano lo spostamento dei fedeli dall'Europa ai luoghi bizantini ai luoghi turchi e quindi trassero tantissimi vantaggi di natura economico commerciale dalle crociate dimostrando anche con questo atteggiamento spregiudicato che le motivazioni religiose alla base del conflitto non erano loro a cuore dunque io spero che questo video sia stato utile per chi deve studiare le crociate per chi ne vuole avere una lettura d'insieme dunque ringrazio tutti per l'attenzione e vi esorto ancora soprattutto chi non lo avesse ancora fatto ad iscrivervi al canale ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao